via, salta proprio Desideri che poi allunga la gamba scivola qui Del Piero, si trova involontariamente Boxic a tu per tu con il portiere viene messo giù e questa volta non ci sono il fischio di Treossi Del Piero parte dalla lunetta dell'area di rigore un metro fuori la linea bianca, parte Alex Juventus 2, il raddoppio un metro fuori la linea bianca, parte Alex Juventus 2, il raddoppio Alessandro Del Piero Torricelli, il pallone arriva, Del Piero dentro, messo giù, Del Piero manata su l'ha provata in tutti i modi è andata bene in qualche caso forse non si aspettava questo movimento alla battuta Alessandro Del Piero, parte il fischio e sono tre Del Piero, parte il fischio e sono tre Juventus 3, Udinese 0 ancora Alex Del Piero